Siamo con Maurizio Laudicino, Art Director della Capanonina di Franceschi, che stasera tra l'altro compie anche gli anni, auguri Maurizio, è una serata particolare perché stasera ci saranno anche laio e buscuaca e te eseggerai un taglio della torta e festenti anche 20 anni di carriera by night, cosa si prova? Guarda, il compleanno ormai è diventato quasi un proforma perché purtroppo ogni anno compio gli anni, se che sono abituato a compierlo, però il traguardo dei 20 anni che taglio stasera sinceramente mi riempie di soddisfazione perché io inizio per scherzo nel 92 e mi sembra assurdo essere oggi qua con te 20 anni dopo a parlarne, per cui questo in effetti è la cosa che mi riempie di grande soddisfazione. Qual è un ricordo che conservi con maggior piacere della tua carriera? Ma io sai, ora fare un riassunto dei primi 20 anni mi sembra, mi ricordo tante cose, le stagioni a Milano Marittima, mi ricordo Vasco Rossi, mi ricordo Firenze, mi ricordo la Capanina che come ultima esperienza fatalmente oggi è quella che riveste maggiore importanza, d'altronde la Capanina è il top della carriera di una persona che lavora di notte, il locale più antico del mondo, per cui diciamo che l'etapa più fondamentale è quella che sto vivendo oggi. Ti senti di ringraziare qualcuno in particolare? Io mi sento di ringraziare tutte le persone che in questi 20 anni hanno scelto di ballare, di divertirsi, di innamorarsi nei locali in cui ho lavorato, mi sento di ringraziare la mia attuale compagna che condivide con me un percorso da 14 anni e che il 2 settembre sposo, alla bussola e poi i miei tre bimbi, questo. Quindi auguri Maurizio, però ci devi fare un saluto per Viareggino.it. Viareggino.it è una scoperta per me recente ma solo per me perché ormai la conoscono tutti da anni e anni, è una collaborazione che abbiamo intrapreso già l'anno passato, quest'anno con i venerdì l'abbiamo vitimata e speriamo che segua il cammino al mio personale all'interno della campagna.